Il segreto è fare in modo che mettere in ordine diventi un gioco. Grandi scataloni e butti tutto dentro. Sì, non sono in grado di mettere su una camera così. Eh, lo so. Grazie. Eh no, è mio! È mio! Ragazzi, basta litigare. Allora, facciamo un gioco, eh? Un gioco bellissimo. Mettiamo un po' di musica. Quando stoppiamo, dobbiamo restare immobili, tipo statue. E il primo che si muove viene eliminato. Sì! Vai! Papà, la prossima volta vedi di non perdere ancora? Questa volta non perdo. Questa volta non perdo.